Ciao a tutti, oggi siamo qui per dare un'occhiata a questo nuovo servizio Comodo Online Storage che si propone, sebbene con alcune differenze, come una alternativa al ormai assolutamente noto e stra utilizzato Dropbox, di cui ho avuto modo di fare diverse recensioni, mini guide sull'utilizzo eccetera eccetera, Dropbox è sicuramente il punto di riferimento oggi come oggi, ma come sappiamo internet ci presenta una serie di cose interessanti, quindi la prima cosa che consiglio è andare sul sito che si chiama cccloud.com, dare un po' un'occhiata, ovviamente qui è tutto in inglese, ma credo che non ci siano particolari difficoltà, sono 5 giga di spazio disponibile, sul sito è disponibile anche una piccola presentazione attraverso la quale si può capire come funziona i principi di base su cui si appoggia questa nuova offerta e la cosa interessante oltre a questo è che abbiamo la possibilità di fare una upgrade, ovviamente a pagamento in questo caso, fino a 250 giga, però questi 250 giga costano 9,99 dollari al mese, cioè 99 dollari l'anno, quindi due mesi gratuiti, il che ovviamente mette fuori gioco Dropbox se questo servizio dovesse prendere piede, perché con la stessa cifra con Dropbox andiamo soltanto a 100 gigabyte, quindi qui siamo a due volte e mezzo l'offerta e addirittura abbiamo 9,99 per 250 giga mensili, quindi per un uso di un mese di 250 giga. Ora, è chiaro che noi ci focalizzeremo sull'opzione gratuita da 5 giga, ma vedremo poi le contromosse che praticamente andrà a fare Dropbox perché credo che non rimarrà assolutamente, diciamo così, senza fare le proprie contromosse dal punto di vista di marketing, dunque in tutti i casi quando andiamo a fare un nuovo account, sia che lo facciamo da questa pagina o che lo facciamo da una delle pagine precedenti dove dobbiamo scaricare il nostro piccolo software, il software una volta che verrà scaricato sul nostro computer, eccolo qua che viene a scaricare e richiederà comunque di creare un account, quindi la prima cosa che facciamo è creare un account gratuito all'interno di Comodo, inseriamo email e password che vogliamo utilizzare, clicchiamo sul tasto registra, un messaggio ci avverte che l'account è stato così creato. Per il momento possiamo chiudere qui e andiamo a prendere il nostro file per fare la installazione. Clicchiamo sul file con diritti di amministratore per far partire la installazione, l'installazione partirà, ci verrà chiesta la lingua in cui vogliamo eseguire il tutto, nel nostro caso scegliamo l'italiano, dobbiamo accettare i termini di licenza cliccando sul tasto, andiamo avanti e lasciamo che l'installazione abbia corso. A questo punto ci verrà chiesto di inserire i dati che abbiamo utilizzato per il nostro account, se non l'avete ancora fatto ovviamente lo chiederà nuovamente da qui, quindi dobbiamo soltanto inserire i dati che abbiamo utilizzato per la registrazione e clicchiamo su fine. A questo punto l'installazione è terminata, ci verrà dato un messaggio di avviso, benvenuti su comodo storage, quindi apparirà un'icona che ci segnalerà appunto la possibilità di utilizzo di questo prodotto e sostanzialmente ci viene anche detto che mostra zona di trascinamento perché chiaramente ci viene detto esattamente come vogliamo fare apparire questi dati all'interno del computer. La cosa importante è che all'interno del nostro computer appare ovviamente già all'interno dei nostri dischi appare il disco comodo online storage, quindi praticamente viene inserito esattamente come viene inserito a cose normali, nei preferiti viene inserito Dropbox.